Il grande Catechismo Il giorno di Pentecoste, al termine delle sette settimane pasquali, la Pasqua di Cristo si compie nell'effusione dello Spirito Santo, che è manifestato, donato e comunicato come persona divina. Dalla sua pienezza Cristo Signore effonde a profusione lo Spirito. 50 giorni dunque dopo la sua risurrezione, in questo giorno di Pentecoste, è pienamente rivelata la Santissima Trinità. C'è un bel tropario dei Vespri di Pentecoste, della liturgia bizantina che così proclama. Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito Celeste, abbiamo trovato la vera fede, adoriamo la Trinità indivisibile perché ci ha salvati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.